Ciao ragazzi e benvenuti in questo ottavo episodio di Nerd Place, c'è posta per nerd. Forse uno dei format più longevi su questo canale, anche se ha cambiato forma tantissime volte. Prima di iniziare con il video vi ricordo come sempre che in descrizione trovate tutti i link di tutte le cose che vedrete oggi, e laddove possibile anche i codici sconto. Direi di iniziare subito questa volta senza perderci in chiacchiere, magari come sempre seguitemi anche su tutti gli altri social, tanto i link sono nella descrizione. Mi trovate anche su Trez, il Twitter di Meta, mi troverete giusto per quell'altro mese e mezzo in cui riuscirà a sopravvivere questo social, ma direi di partire assolutamente con il primissimo acquisto, quello forse più importante per questo canale, ovvero questa. Sì, non sto indicando voi, ma sto indicando la Canon EOS R50, questa qui. La mia Panasonic Lumix LX15 con cui ho registrato tutti gli ultimi video degli ultimi anni, ha deciso di abbandonarmi quest'anno, e neanche totalmente in realtà, perché in realtà funzionava benissimo, scattava foto, faceva video, nonostante quest'ultimo problema, ma aveva deciso di anticipare il Natale. Come? Beh, presentando l'RGB sullo schermetto senza farmi vedere nulla, quindi rosso, verde, blu, rosso, verde, blu, nero ogni tanto perché si spegneva, e quindi dopo un paio di video in voiceover, una grande pausa, comunque la pausa non riguarda solo la fotocamera, ma anche gli esami, perché sì, a febbraio avrò quattro esami, dopo tutto questo ecco qui la EOS R50. Per ora mi trovo molto bene, comunque sto registrando con questa fotocamera. Ovviamente se volete dare un'occhiata alle caratteristiche, il link di Amazon è nella descrizione. Ma passiamo agli arrivi di Pampling. Io collaboro con il sito, come sempre c'è il codice ILPENSIERO4 che vi darà la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello e averle totalmente in modo gratuito, sarà un regalo del sito e del mio codice, e in questo periodo ho preso due quadernetti per disegnare, comunque li utilizzo per questo, questo molto più artistico e questo un po' più divertente se vogliamo dirlo così. Ovviamente entrambi con i fogli bianchi. E passando alle t-shirt, ho preso questa con la colorazione mattone, che ha lo stesso disegno davanti, in piccolo, che si ripete nella parte posteriore, con scritto BEING NICE IS A FULL TIME JOB, ovvero essere carini è un lavoro a tempo pieno. Poi per Halloween, questa con i coltelli e i personaggi più famosi dei film horror, quindi come potete vedere Winnie Pooh, Peter Pan, Bambi, tutti qui. Questa bianca a tema Breaking Bad, colui che bussa nato per cucinare, e non poteva mancare assolutamente un'altra t-shirt a tema Tarantino, con Written and Directed by Quentin Tarantino, semplicemente. Ce ne sarebbe un'altra in realtà, ma al momento non è disponibile per farsi vedere, quindi ve la lascio qui con il design preso dal sito. Vi ricordo ancora una volta che tutte queste t-shirt sono disponibili sul sito e inserendo il codice ILPENSIERO4 avrete un paio di calze gratis a scelta. Arrivando subito ai fumetti, ovviamente siamo nella parte Marvel, Timeless, il secondo perché il primo l'avevo già, e in attesa del film che arriverà nel 2000 e boh, non lo so, Secret Wars, il must have. Andando avanti, quest'anno è stato anche l'anno della PS5. Finalmente, l'ho anch'io. E lì, penso che si veda. Vi chiederete sicuramente perché ho deciso di prendere la PS5 qualche anno dopo l'uscita. Beh, semplicemente perché volevo provare le nuove funzionalità del controller, l'interfaccia, i giochi sembravano anche molto interessanti, e, oh, Marvel Spider-Man 2, unico motivo per cui l'ho presa. Prima di passare forse alla categoria più importante su questo canale, ovvero il cinema, i film, in questo periodo ho preso altri due poster. Quello di Tartaruga Ninja, Chaos Mutante, che è un film che non dico di aver apprezzato così tanto, ma comunque carino. Ma soprattutto il poster di Oppenheimer, il miglior film del 2023 a mani basse, per quanto mi riguarda naturalmente. Ma adesso passiamo ai film e alle serie TV, perché ci sono anche quelle. Iniziando dagli unici due DVD, quello della prima stagione di The Last of Us, serie che ho apprezzato, e il DVD di Blade Runner. Vi chiederete perché ho preso il DVD e non il Blu-ray? Beh, perché ho sbagliato. Passando già ai Blu-ray, ho preso con un'offerta al Black Friday questo cofanetto, contenente tutte le otto stagioni di Game of Thrones, che recupererò prima o poi, ve lo giuro. Eccole tutte qui, mi è costato tipo 30 euro a fronte dei 70 a cui era messo prima. Andando avanti, sempre con i Blu-ray, circoscritti a un solo regista, ovvero Kubrick, Lolita, Arancia Meccanica, Barry Lyndon e Eyes Wide Shut. Della stessa collezione avevo già 2001 di Sé nello Spazio, Full Metal Jacket e Shining. Adoro veramente il fatto che abbiano tutte lo stesso stile. Andando avanti, arrivato da Warner Bros, La Casa, Il Risveglio del Male, ultimo film della saga La Casa, non diretto ma prodotto da Sam Raimi, sempre da Warner, Blue Beetle. Poi, proprio come Kubrick, cercherò di completare più o meno questa collezione dei film di Hitchcock con questi primi tre che ho preso, ovvero La Donna che Visse Due Volte, La Finestra Sul Cortile e Gli Uccelli. Aspettando poi il quarto film, anche se il trailer ha un po' abbassato le mie aspettative, ho preso la collezione dei tre Kung Fu Panda, che è la mia saga Dreamworks preferita in assoluto. Ancora da Warner, il 4K più Blu-ray di The Flash, film che possiamo definire un mio guilty pleasure? Forse, non lo so. Ne riconosco tutti i problemi, però a me non è dispiaciuto poi così tanto. E chiudendo con i Blu-ray per passare poi alle Steelbook, Spider-Man e Cross the Spider-Verse. Quello che secondo me è un altro miglior film dell'anno. Non ho ancora preso il Blu-ray di Oppenheimer, ma lo ordinerò a breve, quindi lo vedrete nel prossimo Nair Place. Steelbook. Collectors Edition di Dr. No, che sarebbe il primo 007. Questa è la semplice Steelbook. Ma all'interno si trova anche le istruzioni per costruire il Dragon Tank di cartone, un booklet molto interessante con le immagini dal film, delle cartoline e infine il primo poster. Tutto questo sempre da Mamma Warner, come anche la Collectors di The Lost Boy di Schumacher, che comprende naturalmente la Steelbook. Anche qui una busta di cartone, ma rossa, che contiene a sua volta il poster del film, doppio poster, le cartoline dei personaggi e anche qui un piccolo booklet in stile fumettoso. Molto carino questo. Finendo con gli ultimi due arrivi di questo periodo, altre due Steelbook, una inviata da Warner, l'altra sfortunatamente l'ho presa io, e capirete perché sfortunatamente, anche se mi seguite lo sapete già. E sto parlando da parte di Warner di Shazam Fury of the Guts, anche in questo caso, secondo me, un guilty pleasure, tantissimi problemi, ma quest'anno sono usciti dei film molto peggiori. E all'economissimo prezzo di 30 euro, la Steelbook di Winnie the Puebla De Noni, o Sangue e Miele in italiano. La recensione la trovate sul canale, l'ho visto un paio di volte e l'ho rivalutato sempre di più in negativo, tanto che sarà in una certa lista dei peggiori film del 2023. Ma ragazzi, il Nerd Place numero 8 finisce qui. Vi ricordo ancora una volta che tutti i link di tutto quello che avete visto in questo video li trovate in descrizione. Per Pampling c'è sempre il codice ILPENSIERO4 per avere un paio di calze gratis a scelta. In descrizione ci sono anche i link dei miei social, Instagram, TikTok, Twitter, che si chiama X adesso, Letterboxd e appunto Trez. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!